Il riscaldamento ma anche la manutenzione delle scuole medie e superiori dell'intero territorio della città metropolitana di Torino. Da alcune settimane fa notizie su tutti i giornali, l'opinione pubblica è molto attenta a questo tema. Siamo con il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo che ha iniziato un tour, un vero e proprio tour, nelle scuole medie e superiori che sono di competenza della città metropolitana. Si parte dal liceo Norberto Rosa di Susa per un confronto che in realtà è continuo con i dirigenti scolastici ma oggi anche con gli studenti. Assolutamente sì, l'idea è quella di far sentire la presenza di città metropolitana dopo la carelle mediatica che c'è stata in questi giorni. Noi non vogliamo minimizzare il problema, vogliamo prendercene carico. Sicuramente ci sono stati dei disservizi e delle problematiche che riguardano il riscaldamento in alcuni plessi della nostra rete scolastica. Ma voglio essere molto chiaro, non si può parlare di emergenza fredda, non si può parlare di educazione siberiana, non si può parlare del grande inverno. Si parla di alcune problematiche localizzate perché abbiamo degli edifici che purtroppo incominciano a far sentire il peso degli anni e perché come capita nella quotidianità della vita di tutti noi purtroppo gli incidenti possono capitare. Noi abbiamo un sistema collaudato e rodato, abbiamo una ditta che si occupa della gestione del calore con cui abbiamo un contratto decennale da 13 milioni di euro l'anno, abbiamo investito 11 milioni di euro in due anni per sostituire tutte le centrali termiche delle nostre scuole superiori e c'è un presidio costante dei nostri tecnici che quotidianamente entrano nelle nostre scuole dove vanno i nostri ragazzi e le nostre ragazze, dove vanno anche i loro figli e le loro figlie quindi c'è un'attenzione davvero molto importante per controllare che tutto sia a posto. A me fa piacere essere in questa scuola oggi, in questo liceo, mi ha fatto molto piacere incontrare i rappresentanti degli studenti perché ci dobbiamo occupare di loro perché sono la risorsa più importante che abbiamo. Non è una frase di rito, è un impegno che ci prendiamo quotidianamente che in questi giorni è stato oggetto di una grande attenzione mediatica e vogliamo sottolineare un impegno dalla parte politica ma soprattutto dalla parte tecnica amministrativa perché Città Metropolitana da sempre è ingaggiata per far sì che le sue scuole sul territorio siano dei presidi di cultura, di formazione, di innovazione, di futuro e per garantire che in questi luoghi si possa svolgere l'attività scolastica nel migliore modo possibile. E volevamo anche noi dare la nostra opinione su questo problema che noi affrontiamo tutti i giorni appunto del freddo che si percepisce nei nostri istituti. Io sono una studentessa della sede di Susa è un problema che si riscontra già da quando io ho iniziato il liceo ma anche da prima i locali e gli ambienti essendo molto vecchi, questa è una scuola, è un edificio storico hanno problemi di infissi, problemi di freddo e quindi si è richiesto questo confronto con Città Metropolitana per parlare del problema. Speriamo che questo incontro sia stato proficuo e che soprattutto abbia fatto capire e farli un po' immergere nel mondo che noi viviamo ogni giorno. Sicuramente il tema del freddo è un tema importante perché siamo in inverno l'edificio di Susa è un edificio molto vecchio lo stesso per Bussoleno che ha delle aree molto ampie situate anche nel locale palestra e questa è la nostra priorità. Però non posso che esprimere la gratitudine per la presenza non solo di oggi delle autorità della Città Metropolitana del vice sindaco Jacopo Suppo, dell'architetto Schiari ma mi sento anche in rappresentanza della consigliera delegata la dottoressa Greco che ringrazio formalmente perché tramite lo suo staff ci è vicino. Certo è difficile, il dialogo non sempre può portare agli obiettivi che uno si prefissa però l'importante è costruire insieme un percorso per risolvere i problemi.